Angoli, un'opportunità per imprese e cittadini. Angoli, da lunedì a venerdì alle 19.00 su ITV. E dunque avete fatto bene a rimanere perché io ve l'avevo detto innanzitutto valeva la pena vedere insieme il lavoro immenso realizzato dagli allievi della Scuola di Cinema e Televisione di Milano in compagnia del 118 di Como, una realtà complessa, una realtà di cui tutti noi andiamo orgogliosi, che è stata documentata in un modo che insomma io personalmente ritengo assolutamente efficace e straordinario. Vi avevo detto che non sarebbe finita lì con la proiezione del documentario che comunque insomma quando le immagini parlano così bene non bisognerebbe nemmeno aggiungere ulteriori parole ma noi vogliamo darvi qualcosa di più e allora andiamo ancora oltre, vi facciamo vedere chi c'è alle spalle di questo progetto, chi ha lavorato per la realizzazione di 118 anatomia di un'emergenza e allora è un piacere ritrovare nel nostro studio due nuovi ospiti in rappresentanza del grandissimo gruppo che adesso comunque ricorderemo. Innanzitutto buonasera, buonanotte ormai a Tonino Curagi. Grazie per essere qui. Io ricordo che lei è stato proprio il tutor del progetto, del documentario realizzato ma ricordiamo anche che è insegnante all'interno della scuola, corretto? Certo, esatto. Non è venuto da solo ma è venuta con una delle, eccole qui, che diamo un volto a questi ragazzi. Tu hai un grande compito Giulia, innanzitutto benvenuta Giulia Peruzzotti. Grazie. Tu rappresenti un po' tutta la squadra di allievi che ha lavorato fisicamente ma tu nello specifico hai poi lavorato in post-produzione, hai montato. Esatto. Eh, qui dobbiamo un po' raccontare tecnicamente che impegno è stato. Parto da Tonino, tutor del progetto, perché insomma lei ha accompagnato questi ragazzi da quando è arrivata un po' la missione di documentare la realtà del 118 ad avere il prodotto finito che abbiamo appena guardato insieme. Insomma, arriva un lavoro, un compito così grande, documentare una realtà articolatissima. Come si lavora? Come avete lavorato? Come si lavora? Premetto che il documentario è uno dei saggi che si svolgono nel terzo anno, che è l'ultimo anno, diciamo, che dà il diploma. Le classi coinvolte sono di fatto sei per i rispettivi corsi, quindi è stata coinvolta il terzo anno di sceneggiatura, il terzo anno di regia, il terzo anno di operatori di ripresa, il terzo anno di suono, di montaggio e di organizzazione e produzione. Sono sei degli otto indirizzi che la scuola nei suoi corsi diurni in qualche modo sviluppa. Chiaramente ci sta a monte il coordinamento, la relazione che si è creata, di cui si è parlato prima, tra il 118 e la scuola di cinema. A quel punto poi bisogna decidere come sviluppare il progetto. La prima classe che viene coinvolta è quella di sceneggiatura e quindi si incominciano a vedere, cioè il mio ruolo nei confronti di questi studenti è quello di far vedere in qualche modo quello che a nostra, come docenti, conoscenza è stato sviluppato negli ultimi anni. E quindi mostrare magari esempi simili o, diciamo, tangenziali a come si racconta un certo tipo di realtà. Come lei diceva nell'introduzione, prima della visione del film, è stato scelto un certo metodo, diciamo, che è un metodo relativamente classico, diciamo, del cinema documentario che è il documentario di osservazione. Perché, scusate se la interrompo, io prima, nell'introduzione, infatti, volevo dire questo che adesso posso dire apertamente così, vediamo se trovo riscontro. Quando ho guardato per la prima volta il documentario, non avendo gli studi dei vostri allievi alle spalle, giustamente, io mi aspettavo un'altra decisione, ovvero un racconto, una voce magari che mi raccontasse. Invece voi avete fatto una scelta precisissima, adesso l'abbiamo visto insieme. Scelta che, penso, molti dei telespettatori ritengono che sia stata quella migliore. Perché voi avete proprio deciso di non aggiungere niente, non c'è musica, non c'è dialogo, se non tutto quello che viene raccolto al momento. Quindi la voce, chi parla, sono le situazioni reali. È il 118, è la macchina del soccorso? Sì, in qualche modo è quello che si... Senza entrare troppo nello specifico, nel particolare, è il fatto, in qualche modo, non di fare informazione, ma di fare, in realtà, racconto. Cioè, usare una particolare tecnica, sfruttare la forza dei suoni e delle immagini che, in qualche modo, nei 15-20 giorni di riprese si sono di fatto realizzate e poi, invece, in montaggio, costruire di fatto, in qualche modo, la struttura, la sceneggiatura, si può dire, e in qualche modo far rientrare, creare la finzione di un giorno di lavoro del 118, di tutto quello che accade, attraverso, però, invece, le riprese di 15-20 giorni. Ecco, io su questo voglio proprio che ci soffermiamo un secondo, magari anche con l'aiuto di Giulia, perché scegliere di montare, di produrre un filmato che, abbiamo visto, dura circa tra i 40-50 minuti, quindi uno dice, va bene, questo è il prodotto finito, voi non avete idea delle ore che ci sono dietro per selezionare queste 40-50 minuti di immagini. Giulia, tu, da montatrice, insomma, ti sei trovata insieme ai tuoi colleghi con una molle di materiale girato, quindi i vostri colleghi che sono usciti a filmare, effettivamente, non hanno portato a casa questo che è il lavoro finito. Con che molle di materiale vi siete trovati? Dunque, a fare i conti. Guarda, le ore erano tantissime e in questo caso il regista è stato veramente d'aiuto, perché avendo seguito la parte produttiva in loco, ci ha aiutato anche nella direzione da prendere della scelta del materiale. Poi, soprattutto, questa giornata che è stata raccontata è una conseguenza del lavoro di collaborazione fra reparti e anche dell'idea iniziale, insomma, degli autori che l'avevano messa su carta e che poi ce la sono ritrovata in video. È assolutamente un lavoro corale quello che avete fatto voi all'interno come studenti, dove tutte le professionalità, insomma, che state preparando nella scuola si sono dovuti mettere a confronto per arrivare a questo tipo di risultato. Voi come studenti vi aspettavate, insomma, rispetto a quando vi hanno detto va bene, andrete a documentare il 118 di Como, vi sareste mai immaginati che la realtà che poi avete trovato davanti ai vostri occhi sarebbe stata così complessa? E poi dover fare i conti con il materiale girato così complesso allo stesso modo? Beh, sicuramente la realtà che viene raccontata oggi in televisione, che può essere connessa diciamo all'esperienza del 118 che è più locale per noi, è completamente diversa da quello che avremmo voluto dire. Infatti la scelta di non avere un narratore che scandisse i tempi della giornata è stata molto forte, ma di fatto filmando e montando bisogna scegliere cosa raccontare e in che modo raccontarlo, cercare il miglior modo per poter esprimere una sensazione o comunque una situazione senza gli interventi raffinati, diciamo. Tonino, insomma ci sono stati i momenti topici di questa vostra esperienza, siete stati molto a contatto con il 118, avete prodotto tantissimo materiale, ci sono stati momenti particolari in cui, non lo so, avete avuto grande entusiasmo da una parte, un punto di svolta in cui avete capito che magari dovevate cambiare un po' approccio dal punto di vista tecnico, perché una delle cose che mi ha colpito molto quando prima avevamo in studio la vostra direttrice e il responsabile del 118, il dottor Landry Scina, è che, insomma, tutti si sono dovuti adeguare a tutti, quindi anche voi siete usciti, immagino, con lo spirito di chi deve eseguire un compito, ma ascontrandovi con una realtà che richiede anche del tatto in qualche modo, no? Sì, sì, certo, è quello che, diciamo in gergo, la giusta distanza, o il tipo di relazione che tu riesci a costruire con la realtà. Chi ha in mano una telecamera, chi ha un progetto, si deve interrogare sulla forza, sul potere che ha in qualche modo. E quindi, nello specifico, è stato un lento avvicinamento, nel senso che compatibilmente a quelli che erano poi il programma didattico, perché, ribadisco, gli studenti non hanno fatto solo questo film nel terzo anno di studi, hanno prodotto piccole opere di un cortometraggio, di fiction, videoinchieste, format televisivi, perché questa è la formazione complessiva che i differenti indirizzi permettono agli studenti, cioè che possono fare tutte queste... però, nello specifico, si può dire che siamo partiti a novembre dell'anno scorso, con una riunione ogni settimana, ogni 15 giorni, chiaramente solo con i ragazzi di sceneggiatura, hanno incominciato a... la cosa più semplice era andare nella centrale operativa, cioè ascoltare le telefonate, incominciare a capire, infatti il film così inizia, si è un po' favoleggiato, si è un po' discusso classicalmente dei classici tre atti, in qualche modo che noi dicevamo la telefonata, l'uscita e l'arrivo al pronto soccorso. Dopodiché però invece bisogna andare sul concreto e nel mese precedente, le riprese che sono state più o meno tra fine aprile e il 13-14 maggio, tutti a turno, naturalmente col permesso del 118, abbiamo fatto un lavoro di preparazione sul campo, quindi gli operatori, il regista, gli sceneggiatori, gli organizzatori sono usciti con le automediche, con le ambulanze, quindi questo ha cominciato già senza telecamere, chiaramente, questo è stato un periodo proprio di studio concreto, reale, ci si è resi conto di quello che appunto diceva... Una sorta di sopralluogo in qualche modo per prepararsi. Sì, in qualche modo, un lungo sopralluogo, soprattutto in un territorio così sensibile, così particolare che è quello purtroppo a volte che è tra la vita e la morte, quindi un certo tatto che bisognava avere, chiaramente come ha detto prima il dottor Randicina, siamo stati educati, siamo stati in qualche modo edotti a questa... e poi si è trattato poi invece di partire. E lì, naturalmente, anche quello è un percorso che magari all'inizio si fanno dei piccoli errori e poi piano piano... Si va a migliorare. Si va a migliorare. E soprattutto anche questo, diciamo che questa particolare tecnica, diciamo, del cinema di osservazione permette dopo un po' di tempo che la gente un po' si dimentichi del fatto che noi siamo presenti... Certo. ...con le telecamere. E quindi c'è bisogno, compatibilmente al tempo relativamente ridotto, sono stati 15-20 giorni, ma sono stati 15-20 giorni, dalla mattina alla sera, abbiamo girato anche due notti. Avete visto, ci sono... Quindi sono state sacrificate alcune scene perché è un po' il tuo lavoro, quello è sempre in squadra, però una volta che arrivi a montare devi decidere. Questo sì, questo no, ovviamente seguendo i criteri del compito. Avevate tante materiale, è stato difficile scegliere alla fine poi? Non è stato difficilissimo, nel senso che il regista, Leonardo, aveva bene in mente cosa... dove voleva arrivare. Per cui era arrivato già con una scelta che poi abbiamo chiaramente discusso in sala di montaggio per settimane. Sei uscita anche tu, quindi hai fatto parte di quella turnazione di sopralluogo, no? Peccato perché sennò avrei voluto sapere qualcosa di più, ma poco importa, insomma è stato restituito tutto dal documentario che abbiamo appena guardato. Sta finendo il nostro tempo a disposizione, quindi se volete avere anche maggiori informazioni riguardo alla scuola di cinema e di televisione lo vedete www.fondazionemilano.eu slash cinema per entrare direttamente in quello che è il vostro mondo. Che sono felice che ci abbiate un po' restituito, raccontato adesso. È stato affascinante sapere che comunque c'è una struttura così grande anche all'interno della vostra scuola alle spalle di un progetto simile e 118 anatomia di un'emergenza è effettivamente un lavoro bellissimo. Non posso che chiudere chiedendo anche a voi, chiedendo anche a voi, insomma, vedendolo, riguardandolo, adesso è passato tutto il lavoro, insomma, diciamo così, didattico, ma soddisfatti? Sì, assolutamente sì. Credo che il cinema e la televisione è un atto di resistenza e quindi ci si rapporta a problematiche, cioè quando si parte non si sa mai bene, molto bene, però chiaramente con un certo tipo di esperienza e che è quello che noi docenti, tutor in qualche modo, per esperienze nostre passate, in qualche modo, o tuttora presenti, nel senso che noi siamo docenti, ma nello specifico io, io con la tutor di montaggio Annagorio continuo anche un'esperienza professionale, personale, diciamo. Quindi questo tipo di bagaglio è quello che noi restituiamo agli studenti in qualche modo e quindi, insomma, credo di avere specificato bene. Sì, decisamente, ma Giulia, dobbiamo ricordare, l'anno scorso faceva parte del famoso terzo anno, quindi attualmente tu non sei più allieva, ricordiamo che sei felicemente impiegata comunque nel mondo del lavoro, che è una cosa molto bella, seguendo il filone di quello che è stata la tua preparazione comunque all'interno del lavoro.